Ed ecco naturalmente le immagini, il primo gol è del Napoli, Vinazzani Savoldi, Massa che segna la sua rete, Massa tornato in squadra, segna il suo primo gol in campionato, questo è il ventunesimo del primo tempo, al trentaseiesimo invece verrà il Pariggio dell'Atalanta, un lungo lancio di Rocca, già citato, testa di Paina, chissà perché nella difesa del Napoli non si muove nessuno, è gol per l'Atalanta. Quindi si va verso il quarantaquattresimo minuto quando sul tiro di scala è stanzione a deviare in autorete questa palla dell'Atalanta e quindi il primo tempo si chiude in vantaggio per l'Atalanta. Nel secondo tempo il Napoli ha naturalmente attaccato ma ripetiamo c'era qualcosa avanti che non funzionava anche se Massa ha tentato più volte di mettersi in mostra e pare che sia suo questo gol, sarebbe il secondo gol della sua partita e il secondo gol in campionato ma c'è il sospetto di autorete di May. Non sono molto chiare, le immagini qui scusate non riesco a vederle bene, non potrei essere più preciso, comunque ringraziamo la truppa elettronica per averci dimostrato e diciamo che per lo spettacolo qualcosa è andato bene, per i valori sportivi non tanto.